Siamo con Pierpaolo Scandurra, direttore di Certificati e Derivati. Pierpaolo, sei probabilmente uno tra i maggiori esperti dei certificates. Ci puoi dire rapidamente i tre motivi per cui una persona dovrebbe scegliere questi strumenti? Beh sì, diciamo che nell'ultimo periodo, almeno negli ultimi tre anni, da quando i mercati hanno iniziato a salire, ma dopo un periodo assolutamente negativo, i certificati di investimento hanno dato il meglio di quello che possono offrire, in quanto sono strumenti che consentono innanzitutto una notevole diversificazione in termini sia di sottostanti, quindi è possibile investire su centinaia di azioni, indici, azionari, tassi di interesse, anche se adesso sono molto bassi, e quindi diversificazioni di sottostante e soprattutto di payoff. Questa è una cosa molto interessante, cioè rispetto ad un investimento lineare, come possono essere gli ETF o l'azione stessa, il certificato in un portafoglio consente di massimizzare il rendimento o diminuire il rischio, quindi si riesce ad ottenere un'efficienza notevole rispetto a quelli che sono altri strumenti di investimento. C'è poi da dire anche un aspetto fiscale che sicuramente premia i certificati rispetto ad altri strumenti, in quanto la tastazione sui certificati di investimento è chiaramente del 26% sul capital gain, ma generano solo redditi diversi, che vuol dire che consentono la compensazione delle minusvalenze. Quindi, indubbiamente, negli ultimi anni, in ottica di gestione di portafoglio, piuttosto che di semplice investimento direzionale, hanno avuto sicuramente un importante successo in termini di diffusione. In questa fase di mercato, quale tipo di certificatore tieni più adeguato per un investitore con una propensione a rischio contenuta? Beh, ovviamente, data la caratteristica di poca propensione a rischio, escluderei i certificati a leva in un mercato che comunque tendenzialmente è già molto positivo, però proprio per questo motivo bisogna cercare di prevenire eventuali correzioni del mercato e quindi privilegerei quei certificati con protezione condizionata del capitale, ovvero che propongono una barriera sufficientemente distante dai valori attuali e, se possibile, eventualmente anche una barriera valida solamente alla scadenza. Quindi i classici bonus o top bonus, insomma, che dir si voglia come nome commerciale, quindi strumenti che consentono di avere un rendimento ma nello stesso tempo di godere di una notevole protezione dal ribasso.